Ragazzi all'avventura qua, stiamo andando a un fiume ma queste strade spaventose Diciamo che bello ma insomma un po' risky risky Minchia qua, paurissima Come già appunto preannunciato dalla Ele siamo arrivati al fiume, bello vero? Adesso poi andiamo là che c'è una piazzola incredibile dove l'acqua è verde bottiglia, paurosa, dopo andiamo Che storia, guarda come è verde Un po' di parkour, noi siamo accampati tipo lì, siamo arrivati qui Cioè non so se rende ma veramente è qualcosa di follia, cioè va che roba Cioè è come il mio costume, mamma mia No, troppo forte Vai grande patata, qua, abbomba qua che ti do una mano a risalire eh Sì, dopo da lì È andata, è andata Vieni, vieni, dammi una mano, piede lì No, no, è un trauma signore Allora la Ele è traumatizzata, qui c'è lei così, bella tranquilla che se la nuota Così proprio Guardate il colore dell'acqua qua che è ferma, sembra che non c'è, sembra che non ci sia l'acqua Quante roba Impressionante, veramente Jack Allora, potrei sedermi qua in mezzo, ma non so se mi porta giù o se... Vediamo com'è Non saprei come fare più di altro Minchia se corre Ti porta giù eh Eh? Ti porta giù Uh! Uh! Ahahah! Tu ci abatto e stanno andando via! Ahahah! Che roba! Come? No, è più di uno che mi sono piacere tutto l'acqua Dopo aver mangiato abbiamo fatto una partita a carte, precisamente a scala 40, il gioco della vacanza La Elena ha pensato bene di introdurre la penitenza per chi avrebbe perso, ovvero farsi un bagno nell'acqua gelata di nuovo E indovinate come è andata a finire? Pagapegno la ragazza! Opa! Via! Ruotare! 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 Signori! Sbalzo temporale, non ripreso mentre eravamo in spiaggia Però dopo le cascate siamo andati al Burger King perché avevamo fame E praticamente non c'erano posti dove mangiarli in zona Abbiamo procrastinato sempre di più fino a che non abbiamo visto un Burger King e ci siamo buttati dentro Poi in spiaggia abbiamo dormito E ora eccoci qua Sbalzo temporale incredibile Vinello Corso? Corso? Sì L'abbiamo Rosè Porco di gas Eh! Olè! Era prevedibile? Sì! L'ho previsto? No! L'ho già provato ma vorrei sentire l'intenditrice qua Pre in calice Buonissimo! Un po' caldo È vero però... Buonissimo però E ora Luna Park Vediamo Vediamo cosa fare qua Guardami! Olè! Allora la Cirillo mi ha sulla giostra ma non la si vede È dietro Adesso quando parte la incontriamo Io qua non sono salito perché devo dire che mi hanno provato abbastanza i calci in culo E voi direte ma come? Adesso vi faccio vedere un video di come andavano Come sei? Come sei? Provata? Come è? Come è andata? Proprio alto 770 Bella cartella Ele Forco Giuda che legnata 71 E dopo Luna Park e un'altra bella giornata intensa siamo andati a dormire Oggi non credo che documenterò tanto È una giornata ventosa Niente siamo in spiaggia quella vicino a casa nostra E basta questo Allora stasera a casa stiamo cucinando questa salsiccia che ha avuto svariate avventure L'abbiamo messa in freezer Si è congelata Volevamo mangiarla a mezzogiorno ma si siamo dimenticati di tirarla fuori Quindi l'abbiamo fatta scongelare durante tutto il pomeriggio E non vorremmo che sia un po' troppo Cioè che sia stata fuori troppo tempo dal frigo Vedremo come sarà e se staremo male Vi aggiorno Allora siamo a letto La situazione salsiccia è a posto Non hai girito un cazzo? Non ha digerito Io più o meno E vediamo durante la notte se ci saranno imprevisti Allora mi sono dimenticato di riprendere prima che sono arrivati i piatti Ma dopo ben due ore di strada sotto il sole e varie code Siamo arrivati a Calvi Praticamente dall'altra parte E abbiamo mangiato Cosa hai mangiato te? Spaghetti alle vongole E io un'altra pasta buona Vi lascio la foto Come dolce ci è arrivato questo tortino Fatto in casa con il cuore di cioccolato E devo dire che era veramente eccezionale Chef italiani E nulla, il mare qua è così Veramente bello Dopo bagnetto La recensione sul posto da Sciurazzi dove abbiamo mangiato? Signori, buonissimo, vi assicuro Il posto in questione era quello là Il dolce meglio di tutti Buono eh? Buono eh? Mh Qua l'acqua è veramente impressionante Qua qualcosa senza senso Vedela Che sogno Che sogno E voilà signori Questa è l'acqua Mamma mia Che spettacolo Ma che Spettacolo Un po' fredda Un po' fredda eh Un po' fredda Siamo qua a mangiare Molto carino Quanto gelato? 8 euro 8 euro Quello è questo dai Qui Ci siamo Boh Adesso penso che andremo in una spiaggia rocciosa Quella là è lì Mamma mia Adesso siamo per mercatini E la Elena è abbastanza carica Perché non trova Senti senti Ecco il suo discorso tipico Vai Non fanno raccolta indifferente Per niente Per niente E poi fanno tutti i negozi Con le cose riciclate Molto interessante L'ombrellone è lì L'ombra è qua Va bene dai Va bene Stasera pizzetto in spiaggia E via L'ho ordinata là Il camioncino della pizza Speriamo sia buona Via Eccoci qua Piedi insabbiati Nascosti Pizza Mare E Shrek Eccoci qua Ultimo giorno effettivo di mare Stiamo a mangiare in questo ristorantino Che è carino Stiamo di fronte al mare Ma il cibo signori Non troppo buono Non ci siamo Ora in quanto Burro Naviga questa carne Ci siamo ritornati A una delle prime spiagge Che ci era piaciuta Ed era piaciuta lei E adesso Si gioca a carte Sotto l'ombrellone Che oggi sembra stabile Perché gli altri giorni Ci ha volato via Un bel po' di volte Vediamo come andrà Speriamo bene Minchia c'è un fenomeno Raga dietro l'inascosto Incredibile Adesso tra poco arriva Eccolo eccolo Ed è proprio durante il ritorno Da quella giornata Che abbiamo avuto Il primo e unico In toppo della vacanza L'avventura di stasera Ci ho messo esattamente Un'ora Tornare da una spiaggia Che ci voleva Dalla quale ci voleva Mezz'ora Perché Per una cazzo di partita Allo stadio Che ha Intasa tutte le strade E anche il nostro parcheggio Per cui io ho Due ore per trovare Parcheggio e tutto Se sei un tifoso Di qualsiasi squadra Devi morire Capire che partita Stanno giocando Perché è pieno Cioè è veramente pieno Ogni parcheggio È occupato Boh Come ultima cena Della vacanza Di fianco allo stadio C'era il KFC E noi Non ce ne siamo privati Il cameriere la guarda fa Arrivo arrivo Oggi qua Che si conclude La nostra avventura Con macchina accesa Benzina consumata E aria condizionata Accesa Un caldo bestiale Sotto il sole Abbiamo da aspettare Così per Un'ora E quindici minuti Bene All'inizio vacanza Abbiamo indetto Un torneo di scala 40 Che all'inizio Era vinto da lei Ma Sempre Sempre Ma C'è stato un Oh cos'è Non vuoi foto? Non vuoi foto? No no C'è stato un La vergogno tanto signori Non la vuoi Dì la frase che hai detto prima Dì la frase che hai detto prima Che frase? E che Ti senti come Cioè mi sento come un calciatore Senza gambe Non fa niente Diciamo Diciamo Allora Stiamo vedendo il video Adesso appena editato E stavo dicendo Che alla fine Il torneo è stato vinto da me Da lui E abbiamo detto Che chi vinceva il torneo Doveva fare L'altro Doveva fare un regalo Al vincitore Al vincitore E Ci era dato il budget Di 100 euro Tra l'altro E Mi è arrivato il primo Lego Da lì Ti è partita una mania incredibile Prossimo video Due Lego Sui Lego Di 100 euro Allora Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti